Ti piacerebbe avere degli airdrop veramente molto molto semplici e quindi cripto gratis? Oggi ragazzi andiamo a vedere tre modi, così sono sei in realtà, tre modi per guadagnare cripto in modo completamente gratuito e parliamo di cifre anche molto interessanti. Uno di questi è un airdrop completamente gratuito, molto semplice, adatto a tutti. Altri sono magari sistemi che richiedono dei requisiti ma guarda quindi il video fino alla fine per scoprire tutti e tre i metodi e fammi sapere se già li conosci, se già li hai utilizzati e che cosa ne pensi qua sotto nei commenti. Sono metodi seri ragazzi, non sono scam o cose pericolose o perlomeno non credo, comunque non rischiate niente perché non dovete pagare, sono appunto soldi gratis che vi arrivano. Allora lasciatemi un bel like, cominciamo subito ragazzi. Sì, quello che vi faccio vedere in sottofondo è l'unico di questi tre metodi che richiede un requisito in particolare cioè che voi abbiate almeno un canale YouTube. Non è importante avere un canale YouTube di grandi dimensioni, basta che abbiate appunto un canale YouTube che pubblica regolarmente. Ed ecco che questo è Glive, una sorta di YouTube decentralizzato su blockchain che però ha una particolarità cioè paga molto ma molto di più di YouTube. Infatti come vedete io ho praticamente già guadagnato 145 dollari che sono l'equivalente di 3673 Glive. Se voi utilizzate il link che io vi lascio sotto in descrizione vi arrivano subito in automatico una volta che avete collegato il vostro canale YouTube che ripeto non è necessario che abbia per forza tanti video o tanti iscritti, 25 dollari gratuiti immediatamente appena aprite l'account e vi viene approvato e sono prelevabili. Questi token sono listati anche su BitGet, quindi l'exchange diciamo abbastanza famoso e molto semplice dove potete convertirli e eventualmente venderli per USDT, stablecoin, bitcoin, quello che vi pare. BitGet anche questo se già non lo utilizzate ve lo lascio sotto in descrizione è l'exchange che potete utilizzare appunto per fare questo tipo di conversione. È molto semplice, come vedete io ve lo faccio vedere, ogni settimana Glive rilascia dei pagamenti vedete ho già fatto anche dei prelievi, io ho collegato il mio canale YouTube principale e nel giro di poche settimane ho già messo da parte questo numero di token che tra l'altro ragazzi io sto holdando, vi dico la verità, non li sto convertendo, non li sto vendendo ogni settimana più o meno mi sta pagando intorno appunto ai 25, 30, 40 dollari a seconda appunto un po' della DAO immagino, non so bene come funziona, non so stato di studiarmelo ma ho dato un'occhiata però al come vedete come funziona praticamente una volta collegato il canale tutti i video che vengono pubblicati vengono ripubblicati anche su questa sorta di YouTube studio che poi non è uno YouTube in realtà è un'altra piattaforma, una sorta di YouTube appunto decentralizzato come vedete trovate poi anche altri video, vedete anche gli hard rock che partecipano e ovviamente essendo una piattaforma molto nuova sta cercando di spingere per far sì che altri creator colleghino il loro canale YouTube il lavoro da fare richiede veramente 30 secondi, vi scrivete, lasciate il link, collegate eccetera avete subito i soldi, diciamo subito comunque dopo qualche giorno che venite approvati le vostre crypto, i vostri 25 dollari, fino a 50 dollari arriva in realtà disponibili e poi ogni volta che pubblicate un video su YouTube arriva direttamente anche su questa piattaforma link sotto in descrizione per questo primo sistema diciamo per guadagnare crypto gratuitamente il secondo sistema, ve ne avevo già parlato all'interno di questo canale un po' di tempo fa è un sistema in realtà adatto a tutti, molto semplice soprattutto se siete persone che si muovono tanto o che ha bisogno magari di qualche stimolo per muoversi Sweetcoin è un progetto che esiste già da diversi anni che utilizzo da tanto tempo che ti consente di guadagnare camminando all'interno poi della loro piattaforma avete vari strumenti per poter diciamo incrementare questi guadagni ovviamente ragazzi non si guadagnano cifre astronomiche però comunque nel corso del tempo un bel po' di token diciamo che si accumulano e soprattutto tutto accade in modo automatizzato l'applicazione è all'interno del vostro telefono, registra i passi che voi fate e vi paga di conseguenza in Sweetcoin oltretutto Sweetcoin viene barnata quindi ogni volta diventa sempre più raro diciamo e quindi è sempre più difficile accumularli e questo dovrebbe diciamo andare a togliere un po' di offerta a questo meccanismo e anche in questo caso vi lascio un link referral sotto in descrizione che vi regala qualche Sweetcoin già gratuiti appena cominciate mi sembra 5 Sweetcoin, 10 Sweetcoin, ora non ricordo Sweetcoin ragazzi è una cripto che è già listata su Kucoin quindi è già listata su diversi exchange importanti hanno un loro wallet, tutto molto user friendly ora non ce l'ho qui perché sto usando il telefono per registrare però tendenzialmente è molto facile da usare ragazzi non sto neanche a farvelo vedere perché è veramente molto molto semplice la cosa molto interessante è che loro sostengono e spingono appunto alla mobilità è una sorta di, è come se voi le stesse minando a tutti gli effetti questi Sweetcoin solo che il sistema di mining non funziona utilizzando computer o sistemi diciamo tecnologici complessi ma vengono diciamo questi token vengono rilasciati in base a quanti passi vengono realizzati vengono conteggiati dalla loro applicazione ecco non pensate di prendere l'applicazione e fare che ne so quei robottini che fanno muovere il telefono simulando i passi perché non funziona venite bannati quindi io direi utilizzatelo in modo normale ragazzi se è un'applicazione si scarica sul telefono la utilizzate semplicemente e voi andate via tranquilli che accumulate i vostri Sweetcoin il corso del tempo io per come sono fatto sia per quanto riguarda Gleave sia per quanto riguarda Sweetcoin e anche per l'altro metodo che tra poco vedremo sto holdando tutto vi dico la verità perché siamo in una fase in cui è interessante perlomeno holdare questo tipo di progetti e magari aspettare un aumento di valore un po' di speculazione perché ragazzi questi token crescono cioè quando c'è speculazione anche questi token crescono nel tempo e quindi diventano interessanti e ora un ultimo metodo ragazzi per poter guadagnare che sto testando è appunto GRAS GRAS è un airdrop ed è un token che dovrebbe essere rilasciato sulla blockchain di Solana anche in questo caso completamente gratuito non ha nessun vincolo come funziona? voi scaricate Chrome andatevi a prendere GRAS vi lascio il link referral sotto in descrizione per avere ancora una volta dei bonus eccetera eccetera e collegate semplicemente l'estensione al vostro Google Chrome dopodiché la lasciate andare la lasciate partire e voi ogni giorno guadagnate dei token dei potenziali token in questo caso non sono ancora prelevabili perché questo è un airdrop assolutamente gratuito quindi quando verrà rilasciato il token magari verrà anche listato da qualche parte potrete prelevare questi token eventualmente venderli o farci quello che vi pare come vedete io la sto testando da diversi giorni questi sono i miei guadagni più ovviamente utilizzo il computer più lo lascio aperto non mi costa niente e loro tendenzialmente mi mintano questi nuovi token questo è un airdrop a tutti gli effetti quindi è una durata limitata a differenza degli altri due che non si sa per quanto tempo dureranno e quindi dovete utilizzare il link che vi lascio sotto come referral ovviamente sostenete anche un po' il canale quindi avrò qualche ricompensa anch'io ragazzi su questi referral questo è ovvio però ci guadagnate anche voi perché appunto vi danno dei ulteriori token bonus oltretutto questi airdrop di solito funzionano appunto sul link d'invito quindi ho utilizzato il link di altri magari youtuber di altre persone che mi hanno presentato questa cosa e va così insomma e avere un link d'invito è sempre più utile diciamo per poter aumentare le possibilità appunto che ci siano poi effettivamente questi airdrop quindi ragazzi in questo caso loro vanno ad utilizzare quella che è la connessione ad internet quindi è adatta a tutti non richiede nessun tipo di vincolo basta che aprite Chrome e lo lasciate poi io cosa faccio? io lo chiudo semplicemente riduco l'icona ok? e Chrome rimane in sottofondo continua a lavorare e mi genera appunto questi nuovi airdrop tutto questo è interessante perché come vi dicevo in teoria voi andate a condividere la porzione di connessione che non andate ad utilizzare con la rete di grass ora io non so li hai da approfondire ragazzi perché nel 99% delle volte neanche funzionano queste cose infatti il sito è abbastanza lento eccetera macchinoso io lo faccio solo ed esclusivamente perché voglio i token gratuiti è un airdrop quindi lo utilizzo perché ragazzi se mettete insieme tutte le cose comunque alla fine del mese vi porta magari quei 100, 200, 300, 1000 dollari in più che insomma schifo non fanno soprattutto su token così piccoli che hanno margine di crescita in caso di interesse speculativo che ne so a livello proprio di FOMO soprattutto qua parliamo di blockchain di network di rete che circola su Solana quindi comunque è già un network abbastanza in trend in questo momento quindi insomma ragazzi è tutto gratuito non rischiate nulla la connessione non viene rallentata devo dire che non ha avuto nessun tipo di problema fino adesso e quindi anche in questo caso vi lascio il link sotto in descrizione provate GRAS ok ragazzi quindi tre metodi diversi per poter guadagnare cripto in modo completamente gratuito sono tre airdrop due su tre sono adatte a tutti il terzo ragazzi se non avete un canale youtube magari apritelo e provatelo lo stesso magari funziona non lo so sinceramente io ho collegato direttamente il mio quindi non sono stato lì a fare delle prove non ho idea se voi aprite con un altro canale se lo utilizzate se funziona uguale comunque provate in ogni caso se no ci sono gli altri due metodi io vi consiglio di non sottovalutare tutte queste cose perché queste sono cose che alla fine moltiplicate più magari un pump ti fanno un per dieci un per cinquanta succedono cose strane e c'è chi si ritrova migliaia di dollari senza aver fatto niente in questo caso senza neanche investire quindi direi un metodo più che ci sono metodi più che validi da testare ok fatemi sapere voi che cosa ne pensate se già conoscevate questi metodi tutti i link li trovate sotto in descrizione al video mi raccomando lasciate un bel like e se ancora non vi siete iscritti iscrivetevi al canale noi ci vediamo ad una prossima puntata ciao